ciao video tag se fossi mamma che caldo ragazze oggi in milano ci sono 34 35 ragazzi c'è una fa ovviamente sudando tutto il mio trucco di oggi ho fatto un trucco rosa verde perché ho la magliettina verde ma si sta sciogliendo in cielo su da dalle 12 sono le 6 e mezza c'è un disastro per totale fa troppo caldo va bene iniziamo volevo fare questo tag ma donna che caldo poi in bagno c'è una fa a casa nostra che è condizionata non c'è questo troppo questa non ci possiamo permettere vabbè andiamo avanti secondo me è un video carino anche per conoscere un po' le persone quindi ci sono delle domande se fossi qualcosa io sarei questo questo quello io qua ho le mie domande iniziamo se fosse un sapore se fosse un sapore decisamente un sapore dolce mi ha due dolci quindi un sapore dolce se fosse mia pietra sarei un diamante un diamante perché il diamante è duro bello trasparente sì decisamente è duro sarei un diamante se fosse un elemento naturale un elemento naturale non lo so sicuramente sarei la neve sì la neve bello se fossi musica allora siccome io sono veramente truzza ma truzza 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 inside sarei sicuramente una musica elettronica cioè il tunzo 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 di stile ben i ben assi io non so io c'è niente da fare poi se fossi un fiore girasole io adoro i girasoli girasoli li amo quando quando posso quando li trovo dal fiorista li compro mia socia mi ha fatto dei girasoli in carta li ho in un vaso almeno li posso li posso avere tutto l'anno sono bellissimi veramente se fosse una pianta se ho ben capito pianta per me la pianta è un albero quindi sarei un palmi una palma sarei troppici tutto l'anno fa un casco numero uno se fosse un colore rosa io da bambina mia mamma era disperata io volevo solo vestirmi di rosa fino a sei anni quindi dai tre sei mia mamma impazziva rosa 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 cappellino rosa scape rosa maglietta rosa mi ricordo addirittura ho una foto di quando avevo 6 7 anni si fosse qualcosa di meno mi avevano regalato un vestitino blu ha una faccia in quella foto che non vi dico ogni volta che la vedo mi metto da ridere mi ricordo parliamo di tanti anni fa che veramente arrabbiatissimo con quel regalo vabbè comunque diamo avanti se fosse un giorno ma sicuramente venerdì io dopo venerdì perché poi arriva il weekend venerdì io sono contenta indipendentemente se è una giornata pesante o meno in ufficio venerdì a che bello venerdì poi inizia il weekend e vada buonanotte al secchio come dico io tutti i problemi quindi venerdì se fosse un mese ovviamente mese di maggio sono nata maggio quindi adoro il mese di maggio in teoria non fa né troppo caldo né troppo freddo ma quest'anno abbiamo avuto un maggio eccezionale comunque un maggio se fosse un animale perché dirlo un gatto penso che in una delle mie tante precedenti vite sono stata un gatto io adoro i gatti è una roba una passione ho sempre avuto la passione dei gatti ma in famiglia non mi amava non voleva animali in casa quando sono andata a vivere da sola il mio primo fidanzato nella mia prima convivenza non voleva gatti e finalmente ho trovato andrea l'amore della mia vita che anche lui ha la passione per i gatti quindi un gatto film se fosse un film ovviamente via col vento eterna romantica eterna combattiva via col vento mi piace tantissimo mi piace anche pal fiction quindi sono completamente due film totalmente diversi ma io passo da via col vento a pal fiction cioè proprio sono molto eclettica se mi dice qualcosa del genere insomma sono molto diversa quindi però se dovessi scegliere sicuramente via col vento un libro un libro ne ho letto tanti tantissimi non c'è un libro in particolare che mi piace e mi piace molto patrissa cornovel perché adoro leggere delle autopsie mi piace molto fabrizio cancano che un ragazzo della provincia di milano che scrive ha scritto gli angeli lucifero la teoria dell'eretico tutto su l'esoterismo negli anni 90 della provincia di milano però se ma insomma non ho un libro in particolare che che stramo una stagione se fosse una stagione sicuramente la primavera primavera bellissima primavera quando è veramente primavera adoro la primavera se fosse un tessuto ma se fosse un tessuto seta morbida molto 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 morbida poi la seta fantastica se fosse un cibo allora qui è un problema perché se fosse cibo Nutella sicuramente sarebbe una Nutella qualche anno fa quando non ero vegetariana vi avrei risposto sushi ma ad oggi vi dico Nutella o comunque creme a base di nocciola Nutella se fosse una direzione non so preferisco sempre girare a destra quindi odio girare a sinistra con la macchina odio pancheggiare a sinistra con la macchina quindi destra decisamente destra se fosse una città se fosse una città a New York non l'ho mai vista mi piacerebbe vederla adoro Parigi la strada adoro parenti a Parigi non so se avete capito sono metà francese metà italiana mamma era di Parigi vado spesso a Parigi ma mi piacerebbe New York New York decisamente se fosse una parola felicità perché nella mia vita non ho avuto moltissimo di felicità però comunque posso dire che forse adesso sono un po' più felice comunque felicità una parte del corpo decisamente gli occhi io straduro gli occhi scusatemi più del naso l'ergia scusate gli occhi gli occhi secondo me sono l'espressione dell'anima cioè dagli occhi capisci tutto da uno sguardo capisci tutto un gesto sicuramente un abbraccio quando comunque non sto bene riceve un abbraccio secondo me la cosa più bella il gesto di un abbraccio è bellissimo se fosse un peccato allora qua sono indecisa tra la golosità e la lussuria 50 50 ti dico sempre che io se dovessi mai finire all'inferno farei sei mesi nel girone dei lussuriosi e sei mesi nel girone dei golosi quindi sono di pari passo un evento atmosferico questo è bello non so ma può sempre la neve secondo me se non devi andare a lavorare se comunque sei in montagna in una baita la neve è bellissima è tutto bianco tutto vattato i suoni sono vattati sì è una bella nevicata se fosse uno strumento decisamente pianoforte ho sempre voluto studiare suonare pianoforte ma non abbiamo mai potuto permettercelo quindi sì un pianoforte mi piace tantissimo se fosse un'emozione sapete proprio all'inizio quando quando conoscete una persona e quando vi innamorate ecco quel quell'emozione lì quel 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 nodo alla gola quel batticuore quell'ansia di vuole vedere la persona ecco il primo step dell'innamoramento secondo me è una roba bellissima è un'emozione che dura poco perché comunque poi vabbè ci si è sempre innamorati ma non è mai come proprio i primi primi tempi i primi primi tempi sono bellissimi si cammina 7 metri sopra il cielo non 3 metri ma 7 metri bello 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 quindi sarei quell'emozione lì negozio decisamente pasticceria mi piace fare dolci da bambina vuole aprire la pasticceria ma mamma mi ha detto no vai a studiare qualcos'altro infatti ho dovuto fare ragioneria non mi dispiace ma comunque non era la mia ambizione comunque sì negozio pasticceria un indumento se fosse un indumento un costume da bagno adoro il mare adoro stare in spiaggia adoro stare proprio in acqua delle ore un costume da bagno se fossi un vestito un indumento sarei un costume da bagno se fosse un odore cannella cannella perché sì io adoro la cannella la metto nel cappuccio la cannella ovunque quando c'è torte di mele cannella cannella mi piace molto quindi sì se fosse un'opera d'arte allora uno dei miei pittori preferiti è Van Gogh quindi un'opera d'arte di Van Gogh o il campo di grano o comunque i girassoli di Van Gogh sono bellissimi proprio belli 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 Van Gogh per me lo adoro Van Gogh proprio lo adoro se fossi un accessorio decisamente un ciondolo adoro i ciondoli ho una collezione di ciondoli illimitata un ciondolo sicuramente un ciondolo e aggiungo una domanda che non c'è se fossi un'attrice sarei stata sicuramente Marilyn Monroe perché io l'adoro proprio a livelli spasmodici l'adoro, 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 l'adoro dei libri o delle foto e poster attaccati in casa mi piace tantissimo quindi niente è una domanda in più che non è nel tag ma ce la inserivo tanto il male non fa e quindi niente ragazze sono undici minuti così il tag è piccolino però è simpatico secondo me e fatelo perché almeno ci si conosce si capiscono anche un po' le persone secondo me da questo tag e niente io vi saluto volevo ringraziare come sempre i nuovi iscritti se siete troppo troppo gentili mi mandate un sacco di messaggini carini vi ringrazio un bacione a tutti ah volevo farvi vedere questo questo è lo smalto della Avon che ho messo nell'ultimo giveaway sì ciao giveaway no nell'ultimo haul giveaway e niente mi sembra molto carino e se fosse quella luce qua rende meglio sono stata anche brava amici sono impegnata eh sabato ci ho messo anche gli sticks qua però le mie unghie poverine sono ancora martoriate vabbè piano piano si stanno riprendendo i capelli e unghie eh ce la possono fare ce la possono fare va bene ragazzi vi mando ancora un mega bacione alla prossima ciao ciao